La foto di un bravo ragazzo romano diventa il perno dell'omelia mattutina di Papa Francesco. Uno degli scatti raccolti da Daniele Garofani, fotografo dell'osservatore romano, nel suo reportage sui senza tetto che vivono intorno alla Basilica, ha ispirato al pontefice una meditazione sull'indifferenza che porta a girare lo sguardo altrove quando ci si imbatte nella povertà. È la foto che ritrae un senza tetto con la mano tesa accanto a persone che lo ignorano. Insieme a quelle che vediamo è sulle pareti dell'elemosineria apostolica e Francesco l'ha evocata per ricordare che l'opposto dell'amore di Dio è proprio l'indifferenza. Ho tutto, ho assicurato questa vita, anche l'eterna, perché vado a messa tutte le domeniche, sono un buon cristiano. Ma, uscendo dal ristorante, guardo un'altra parte. Pensiamo a questo Dio che dà il primo passo, che ha la compassione, che ha la misericordia e tante volte noi il nostro atteggiamento è l'indifferenza. La cultura dell'indifferenza per Papa Francesco è quella che porta a non vedere la sofferenza altrui. Un atteggiamento che avevano già i discepoli quando sul lago di Tiberiade non si curarono della folla enorme che seguiva Gesù, preoccupati solo di loro stessi. Il cuore di Dio, il cuore di Gesù si commosse e vede, vede quella gente e non può restare indifferente. L'amore è inquieto, l'amore non tolera l'indifferenza, l'amore ha compassione. Ma compassione significa mettere il cuore in gioco, significa misericordia. Al termine della celebrazione, memoria dell'arcivescovo Zurrex Nunzio in Austria deceduto la notte scorsa, Francesco ha inviato un saluto a Chico Argueio, il fondatore del cammino neocatecumenale, che oggi compie 80 anni.